Ok, oggi parliamo con un tutorial sull'attivazione del Mavic 2 Enterprise Dual. Vediamo come andare ad attivarlo e quali sono i primi passaggi una volta tolto dalla scatola. Innanzitutto la cosa principale da ricordarsi è di andare a caricare completamente la batteria del nostro drone. Andiamo prima di tutto a accendere il radiocomando. Il radiocomando che è al 96% di carica va acceso in questa maniera qui. Un clic e un secondo clic prolungato. Manteniamo fin quando non suona. Nel frattempo il telefono dovrebbe trovare un collegamento USB in automatico, dispositivo in carica. E andiamo a cliccare sulla DJI Pilot, ovvero l'applicazione che possiamo andare a scaricare dal Apple Store piuttosto che dall'Android Store, dal Play Store. E vedete che si attiva immediatamente, si apre immediatamente la nostra applicazione. Se non vi siete ancora iscritti o se non avete fatto ancora il login sul sito di DJI, la prima cosa che vi verrà richiesta è appunto di inserire la mail e la password per il riconoscimento del vostro mezzo. Andiamo ora a togliere il coprilente in questa maniera qui. Prima andiamo ad aprirlo qui e poi andiamo delicatamente a sfilarlo da qui sotto, liberando il gimbal su tre assi. In questo caso andiamo anche a togliere le varie plastiche che coprono la ventilazione del drone. E andiamo ad accendere il drone. Non andiamo ad accendere mai il drone quando facciamo questo tipo di test con le eliche montate. Un click e un secondo click prolungato fino a quando il drone vedremo che si attiva e farà i suoi vari check. Ed ecco che cosa ci viene richiesto una volta che attiviamo appunto l'applicazione DJI Pilot. Activate Mavic 2 Enterprise, activate your aircraft when you connect it for the first time to receive one year warranty. Remove the protective cover before powering on the aircraft. Next. DJI request to access your device, quindi vogliono ovviamente avere le autorizzazioni per gestire il dispositivo. E i termini di utilizzo e la privacy policy da accettare, altrimenti non possiamo proseguire. Gli dovremo dare un nominativo, un nome, che possiamo settare anche più tardi nei settings, però noi lo chiameremo Mavic 2 Enterprise Dual. Fine. Continue. Ci chiede il modo di volo. Il modo di volo che ci interessa e che solitamente insegniamo anche durante i nostri corsi è la modalità 2, ovvero il throttle, quindi il gas con questo stick, e l'imbardata, ovvero lo yow, con questo stick, mentre avanti, indietro, quindi il pitch e il rollio con questa leva. Mode 2, recommended. Continue. Ed ecco che ci compare la spiegazione di tutto ciò che è l'LCD screen del nostro radiocomando. Continue. Possiamo scegliere le preferenze, quindi andiamo in metrico, metri al secondo, e andiamo in PAL come video output. In questo caso ce lo consiglia come raccomandato. Infine, per attivare l'Aircraft dovremo dargli la nostra mail, quindi la garanzia partirà dal momento in cui noi andiamo ad attivarlo. Confirm the email address is correct. Confermiamo e gli diamo Activate. Ci chiede di andare a riavviare l'Aircraft, il drone. Restart now. Il drone, vedete che riparte, sta facendo i suoi check con il gimbal. Mavic 2 Enterprise, quindi riconosce già il drone. E siamo già pronti all'utilizzo, quindi al volo. In questo caso con un manual flight si entrerà nella classica visualizzazione del Mavic. Ok, andiamo a chiudere questo primo scomparto. Questo è il primo dei vari tutorial che andremo a fare. È stato solo l'attivazione. Nei prossimi tutorial andremo a vedere passo per passo tutti i singoli menu per chi inizierà ad utilizzare questo Mavic 2 Enterprise versione dual. Grazie a tutti per la visione. Ricordatevi di iscrivervi a questo canale e di attivare la campanellina per rimanere aggiornati su tutte le uscite dei nuovi video. Ciao a tutti!